Che la sfida sia improba è il primo ad ammetterlo. Filippo Paolini, candidato presidente alla provincia di Chieti, potrebbe non avere lo stesso successo che ha già riscosso a Lanciano, dove è tornato sindaco. L'invito a rappresentare il centrodestra però è arrivato e a quell'invito Paolini non ha saputo dire di no. È necessario essere una grande realtà, non si può lavorare con il vecchio campanilismo, bisogna lavorare tutti insieme se vogliamo intercettare i fondi del PNRR, che è l'unica occasione che ci sta per poter avere delle risorse. E secondo me bisogna concentrarsi su quello. Al di là dei campanili i progetti che prendono aree vaste possono avere un peso, i progetti fatti nell'interesse di una singola città non servono assolutamente a niente. Per cui il lavoro sicuramente sarà quello, se mai ci fossero le condizioni, io poi mi sono candidato solo come presidente, quindi o è o non è, come si suole dire. Cercare di tenere insieme una progettualità che veda coinvolti tutti, al di là dei colori politici, perché secondo me si farebbe un grande errore se si parlassero di schieramenti in questa fase qua. Almeno, poiché non ci confrontiamo con la massa, con la gente che non vota più, siamo a votare soltanto amministratori, per cui se ne facessimo soltanto una questione di schieramenti, secondo me sarebbe un grande errore, che danneggerebbe sicuramente i territori. La regione Abruzzo ha 1.250.000 abitanti circa, che è praticamente un quartiere di Roma. Se vogliamo competere dobbiamo stare insieme, bisogna lavorare tutti insieme, perché se lavoriamo da soli non intercettiamo neanche le risorse, questo è il grande problema. Quando ci si candida, non ci si candida sempre per vincere, si può anche perdere, chiaramente. Sì, sappiamo benissimo che i numeri del centro-sinistra sono notevolmente superiori ai numeri del centro-destra, inutile nascondersi dietro un dito. Sicuramente ci sono delle sacche sulle quali può intervenire. In questo momento il candidato Paolini è un civico, non è identificabile con un partito, è identificabile con uno schieramento, ma io lo identificherei più con persone che hanno voglia di un cambiamento all'interno della gestione della provincia, che probabilmente è stata un po' chiusa su se stessa.